Eccoci qua. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Siamo qui per un incontro molto importante, per un tema molto importante che riguarda tutte noi donne. Il tema di questa masterclass è Call for Women, Call Me Project. L'importanza della prevenzione prendi a cuore la tua salute. Il fine è quello di ovviamente sensibilizzare il pubblico femminile alla prevenzione e all'attenzione per la propria salute e introduco qui la dottoressa Serenella Castelvecchio, cardiologa e responsabile del programma di prevenzione cardiovascolare e medicina di genere presso il Policlinico Sandonato e la professoressa Guendalina Graffinia, direttrice del centro di ricerca Engage Minds Hub, Consumer Food and Health Engagement Research Center, professore ordinario di psicologia e dei consumi e della salute. Chiedo subito alla dottoressa Castelvecchio di presentare in modo sintetico il progetto da lei guidato, Call for Women, Call Me Project. È uno studio che parte da un'indagine web lanciata nella regione Lombardia, allo scopo di sondare il grado di consapevolezza del profilo di rischio cardiovascolare tra le donne di ogni fascia di età. Quindi, prego dottoressa. Buongiorno a tutti e benvenute. Grazie Barbara per questa bella opportunità. Il Call for Women è, come dice il nome stesso, una chiamata per le donne. È uno studio osservazionale, pilota, limitato in questo momento alla regione Lombardia e descrittivo, supportato dalla fondazione del gruppo Sandonato e lanciato in regione Lombardia circa un anno fa in occasione della giornata mondiale del cuore, 29 settembre 2022. Lo studio parte da un sondaggio limitato in questa prima fase alla regione Lombardia, che ha lo scopo di sondare il grado di conoscenza e di consapevolezza del profilo di rischio vascolare tra le donne di ogni fascia di età in diversi ambiti socio-economico e culturali e sanitari, proprio allo scopo di rendere le donne partecipe della ricerca con un affronte di un minimo dispendio di tempo. Il sondaggio è completamente anonimo e consiste di risposta a scelta multipla, che comprendono dati demografici, informazioni sullo stato, sullo stile di vita, sullo stato di salute, su come le donne percepiscono la propria salute e su come gli operatori sanitari e di media influiscono, influenzano la salute cardiovascolare delle donne. Il sondaggio è compilabile attraverso un link che è disponibile su diverse piattaforme, il sito web del Policlinico San Donato, della Fondazione, della Fondazione Onda che ha scelto di supportare questo progetto, della regione Lombardia o semplicemente inquadrando un QR code disponibile online su tutte le riviste come il gruppo ARST che hanno accoltato, che hanno e che vorrei porre alla dottoressa Castelvecchio è proprio come sta cambiando il profilo di rischio cardiovascolare delle donne, perché effettivamente i dati ci sono. Sì, i dati ci sono e vengono fondamentalmente da oltrooceano, dove l'American Heart Association ci ha segnalato che le donne a partire già dai vent'anni e oltre, almeno il 42% convive con una patologia cardiovascolare. Mentre la Società Americana di Aterosclerosi ha riportato un incremento significativo delle ospedalizzazioni per infarto del mio cardio nella fascia di età tra i 34 e i 54 anni, e riguardano soprattutto le donne. E questi sono dati che si fermano al 2015, il che ci induce a pensare dunque che le malattie cardiovascolari per le donne non sono soltanto un problema della menopausa. Noi siamo abituati a pensare che la menopausa rappresenta il classico spartiacque tra lo stato di salute e l'aumento del rischio cardiovascolare. Ma se gli eventi cardiovascolari maggiori colpiscono donne nelle decadi più giovani della vita, evidentemente non è solo la menopausa. Dobbiamo cercare dei fattori di rischio che compaiono ancora prima della menopausa. Infatti questi fattori, abbiamo poi dei fattori che sono condivisi con gli uomini, però poi ci sono dei fattori emergenti che sono altrettanto importanti da analizzare. Sì, c'è da dire che uomini e donne hanno sempre condiviso solo parzialmente il profilo di rischio, perché anche quando parliamo di fattori tradizionalmente noti, quali l'ipercolesterolemia, l'ipertensione, il fumo, il diabete, l'obesità, comunque l'impatto su due sessi è sempre stato differente. Differente a causa del diverso assetto ormonale tra uomini e tra le donne. Una donna in età fertile con cicli regolari ha meno probabilità di andare incontro ad ipertensione, a ipertrigliceridemia, ad obesità. Dopo la menopausa, chiaramente, venendo meno gli estrogeni, che rappresentano una sorta di scudo protettivo, il rischio aumenta. Quindi anche i fattori tradizionalmente noti impattano il rischio in maniera differente tra uomini e donne. E poi, sempre pensando a quello che dicevo prima, ci sono delle malattie che sono comunque più comuni nelle donne. Si pensi, per esempio, alle malattie autoimmunitarie, quindi ai disturbi della tiroide, al lupus eritematoso sistemico, alla depressione, che comunque interessa più le donne degli uomini. E poi ci sono delle condizioni che sono specifiche della donna, sono solo della donna. E quindi la menopausa precoce, ovvero sia la menopausa che si verifica prima dei 40 anni, il menarca anticipato, la prima mestruazione prima degli 11 anni, l'ovaio policistico, sono tutte le endometriosi, la menorrea, i disturbi del terzo trimestre di gravidanza, quindi l'ipertensione, il diabete, sono tutte condizioni che interessano le donne, se ci pensate, nelle fasce di età più giovanili. Perché la diagnosi di ovaio policistico non si fa a 50 anni, la diagnosi di endometriosi di ovaio policistico si fa già a 25 anni. Quindi questi sono i fattori di rischio cosiddetti emergenti. E poi ci sono dei fattori di rischio poco studiati, e quindi scarsamente identificati come tali, che riguardano per esempio le condizioni socio-economiche inadeguate, la violenza domestica e soprattutto la cosiddetta scarsa alfabetizzazione sanitaria. Cioè, intesa proprio come scarsa conoscenza, le donne sanno poco della propria salute cardiovascolare, sanno poco del proprio profilo di rischio, hanno scarsa consapevolezza, e se si ha scarsa consapevolezza è chiaro che si ha una scarsa sensibilità e poco potere decisionale per quanto riguarda il proprio stato di salute. Sì, ma poi in questo contesto c'è anche un paradosso che magari possiamo capire benissimo. La maggior parte delle donne si fa carico della salute dei componenti della propria famiglia, e poi si dimentica della propria di salute. E questo è, come dire, si innesta in un grande cambiamento che comunque è sociale, di ruoli, di responsabilità, che la donna ha avuto in questi ultimi anni. Infatti volevo proprio chiedere alla professoressa Graffigna, dato che il ruolo della donna è cambiato, quanto incide lo stress sulla vita della donna? Certamente, anche i fattori di stile di vita, i fattori psicosociali indubbiamente impattano sul profilo di rischio in due modi. Da una parte in termini di fattori che peggiorano la salute mentale, prima è stata citata l'incidenza della depressione o di altre patologie mentali, si parlava di stress, quindi chiaramente questi sono dei fattori che anche da un punto di vista biologico vanno ad impattare sull'incidenza della malattia. E poi dall'altra parte invece ci sono i fattori che rendono più complicata la gestione del tempo e quindi da un punto di vista pragmatico la difficoltà poi per quelle donne di dedicare tempo ad informarsi, a trovare il modo per andare a fare gli screening e prendersi cura di sé. Parlava dello stress, certamente lo stress è una caratteristica, devo dire un qualificatore emotivo della nostra vita moderna, uomini e donne, certamente. Certo che le donne riportano dei tassi di stress talvolta che sono ancora superiori a quelli dell'uomo e di nuovo per due motivazioni. Da una parte indubbiamente le donne hanno una componente di sensibilità emotiva più spiccata degli uomini, questo è biologicamente dimostrato. Infatti la donna è sicuramente più empatica e più risuonante rispetto alle emozioni, quindi anche ai fattori di rischio che possono portare ad un maggiore attivazione emotiva, quella che noi chiamiamo aerosol emotiva e quindi con delle risposte di stress maggiori. Ma dall'altra parte è anche il problema appunto di doversi, come dicevo prima, far carico della gestione e della cura di tutta la famiglia. Solitamente la donna è un ruolo sandwich nei diversi figure dei membri della famiglia. Spesso sulla donna ricade la prevenzione e la cura delle persone più mature che comunque vengono assistite e nonché dei figli. Abbiamo anche visto per esempio durante il Covid come siano state le donne a riportare maggiori conseguenze negative sia sul piano della salute sia sul piano delle condizioni di vita quotidiane dovute appunto alla pandemia. Perché? Beh, innanzitutto perché poi è stata la donna che a fronte dello stress, della problematicità, della necessità oggettiva di lavorare per una prevenzione della famiglia è stata colei che tendenzialmente ha perso il lavoro, ha rinunciato a attività della sfera privata, si è fatta carico di informarsi, di trovare informazione per la prevenzione di tutti i membri della famiglia. Ecco, questo ovviamente ricade poi su quella che è la salute cardiovascolare della donna. Perché si informa di meno? Ecco, poi veniva citata prima dalla dottoressa questo dato molto interessante dell'alfabetizzazione sanitaria, a parte il fatto che in Italia l'alfabetizzazione sanitaria è a dei livelli abbastanza preoccupanti mediamente, quindi non è soltanto un problema delle donne, ahimè anche degli uomini e delle diverse fasce sociali. questo perché è delle diverse facilità, questo perché anche veniamo da una cultura sanitaria dove poco si comunicava alle persone e è recente questa idea che la persona possa essere protagonista della sua salute e che quindi sia necessario che si informi e che si attivi, mentre nel passato eravamo un po' di più passivi come popolazione, come sistema sanitario più erogativo della cura quando poi c'era il problema. Il problema però dell'alfabetizzazione è anche legato a quelli che sono gli stereotipi che abbiamo sulla salute e degli stereotipi di genere. Quindi paradossalmente siamo nella nostra cultura, viviamo con l'idea che la donna è forte, che la donna deve prima curare gli altri, che quell'acciacchino lì che hai, ma no, che sarai un po' triste, un po' depressa, che poi ti passa. Ecco, è una battuta, lo dico come battuta, ma in realtà è fortemente radicato in come le donne concepiscono il proprio ruolo e la propria identità di genere e di conseguenza come questo ricade sulla salute, sulla propria autolegittimazione del curarsi e del prendersi cura di sé. Perché la donna quasi si sente un po' in colpa talvolta a preoccuparsi della sua salute, a dire sono stanca, non ce la faccio più, vado dal medico. Paradossalmente viviamo questo. E questo però non viene detto, non viene detto mai, viene dato per scontato. Vediamo, medicalizziamo molto la prevenzione. Ma dietro alla prevenzione ci sta una costruzione di una rappresentazione sociale, noi psicologi la chiamiamo così, quindi come noi diamo senso alla prevenzione, come noi legittimiamo il fatto che una donna possa avere dei sintomi e chiedere e porsi dei dubbi rispetto alla sua salute. Chiedere aiuto. Chiedere aiuto. Ma infatti quali sono le soluzioni, come portare le donne a essere più attente alla propria salute? Perché effettivamente questo è un paradosso. Io studio tra le mie aree di ricerca il cosiddetto patient engagement, quindi questa proattività, questa attivazione del paziente, come dicevo prima, veniamo da una cultura sanitaria in cui ci si rivolgeva al sistema sanitario quando avevi il problema e il medico ti curava il problema e basta, e poi finiva lì, ad una cultura nell'ultimo quindicennio, nell'ultimo ventennio, in cui invece le persone devono in qualche modo attivarsi appunto per prevenire la salute. Paradosalmente dai nostri studi, ma anche dagli studi internazionali, emerge che le donne sono molto attive nell'informarsi, nel trovare soluzioni per la gestione della salute e la prevenzione, ma come dicevo prima lo sono a 360 gradi, preoccupandosi di tutti i membri della famiglia, mentre un po' meno per quelli che sono i disturbi della salute femminile. Quindi, come fare ad attivare le donne? Secondo me, dato che le donne sono già spesso su diversi canali di comunicazione, sono spesso interessate a sapere di salute, probabilmente il problema può essere di una scarsa presenza di comunicazioni gender related sulla salute. Oggi parliamo di patologie cardiovascolari, la dottoressa ci sta spiegando come siano sottostimate dalle donne stesse per la loro salute, ma dall'altra parte come siano un problema fondamentale, con un'alta incidenza, e quindi forse mi viene da dire che qua è un problema di nuovo di rappresentazione sociale che le donne, che noi abbiamo di queste patologie. Effettivamente il sapere comune, il sapere laico, che è quello che le persone normalmente hanno, tende a etichettare la patologia cardiovascolare come tipicamente dell'uomo. E allora, io sono certa che la maggioranza delle donne ha una preoccupazione per le patologie cardiovascolari, ma tende a classificare queste patologie nella sua mente come una priorità di prevenzione per il partner o comunque per tutti i membri uomo della sua famiglia, dimenticando che quella prevenzione dovrebbe riguardare anche se stessa. Quindi secondo me il problema della non alfabetizzazione, soprattutto nelle patologie cardiovascolari, è proprio un problema di errata classificazione mentale delle patologie, per cui vediamo per esempio che le donne oggi sono proattivissime nella prevenzione oncologica. Non c'è dubbio che le donne oggi facciano, anche le donne giovani, attenzione alla prevenzione, al cancro al seno, cancro all'utero, eccetera. Ma perché? C'è stata un battaggio comunicativo che non è stato solo quantitativo, è stato anche qualitativo di far capire come alcune patologie sono specifiche anche del genere femminile. Quindi secondo me qua abbiamo un target che è assolutamente disponibile a ingaggiarsi, che è già su molti canali di comunicazione, molto più dell'uomo paradossalmente, soprattutto nelle fasce più mature della popolazione, ma semplicemente che non etichetta correttamente quell'informazione come riguardante se stessa. E quindi qua forse è proprio un problema di come quell'informazione, quella comunicazione verrà mandata. Ecco, qua oggi secondo me è un esempio perfetto. Siamo in un contesto che è chiaramente femminile, perché una rivista come Elle ha un target, immagino prevalentemente, se non totalmente, di natura femminile. E il fatto che venga ospitata un workshop come questo, che parla di patologie cardiovascolari tipicamente rappresentate come per l'uomo, ma per le donne, ecco, perfetto. Questo è l'esempio di come aumentare, secondo me, alfabetizzazione. Assolutamente sì. Infatti il tema della comunicazione delle malattie cardiovascolari, di come questo tema, come giustamente diceva la professoressa Grafigna, sia stato veicolato su altre patologie di cui negli anni abbiamo ampiamente parlato, ampiamente studiato, sappiamo tutti che dobbiamo fare gli screening. Ecco, dobbiamo fare gli screening anche per le patologie cardiovascolari. Quindi deve cambiare la comunicazione. Infatti chiedo proprio alla dottoressa Castelvecchio come andrebbe rivista tutta la strategia di comunicazione in sanità, perché poi alla fine, cioè, noi possiamo essere proattivi, ma ci dobbiamo avere le giuste informazioni. Ma guardi, secondo me la comunicazione, infatto, di malattie cardiovascolari, soprattutto per quanto concerne l'universo femminile, è assolutamente inadeguata. Io non penso che sia soltanto un problema di come le donne incanalano l'informazione. Secondo me l'informazione c'è stata proprio poco. E quando parlo di informazione e comunicazione parlo a 360 gradi, non soltanto della classe sanitaria, ma anche delle istituzioni. Perché quello che è stato fatto per le patologie oncologiche, cioè c'è stata un'iniziativa, qualcuno l'ha fatto, qualcuno l'ha voluto, e ci si è riusciti molto bene. Io ho ricevuto una lettera per andare a fare uno screening del tumore del collo dell'utero. Qualcuno di voi ha mai ricevuto una lettera per fare uno screening cardiovascolare? No. Perché sulle patologie cardiovascolari si è investito veramente poco. Voi lo sapete che in Italia ogni anno muoiono 137.000 donne per le malattie cardiovascolari? Che sono il 58% di tutti i decessi? E le malattie cardiovascolari sono responsabili del 40% di tutti i decessi in Italia? Lo sapete questo? Che significa che andare a fare la mammografia, che poi esclude soltanto il tumore, quindi siete tutte contente, ha poco senso. Peraltro dalla mammografia si possono anche individuare delle microcalcificazioni arteriorari, che sono considerate un nuovo fattore di rischio cardiovascolare. Ma nessuno ve lo dice. Anche perché poi fate tanti esami. Io quando parlo con le mie amiche a settembre iniziano, dico io il giro delle sette chiese. Perché dopo le vacanze vanno. Allora, prima battuta dal ginecologo o dalla ginecologa. Fatto il pap test che riguarda la sfera oncologica è finito. È chiaro che questo è un problema di comunicazione anche dei medici, di noi medici, che parliamo molto tra di noi, e poco con i pazienti, e che non diamo spazio ad un approccio multidisciplinare. Cioè io vorrei capire perché un ginecologo o una ginecologa che vede una donna in visita, peraltro magari in prossimità della menopausa, non suggerisce a lei di fare una valutazione cardiovascolare. Motivo per cui io sono molto contenta di aver iniziato una collaborazione con la professoressa Rossella Nappi, che è l'ordinario di ginecologia del San Matteo di Pavia, che è l'unica che ha pubblicato un editoriale definendo la menopausa una transizione cardiometabolica. Cioè è l'unica che non fa soltanto il pap test. Quindi è tutto da rifare. Cioè la comunicazione tra noi medici, dobbiamo parlare di più tra di noi, e creare degli approcci multidisciplinari, perché ripeto, andate prima dal ginecologo, poi dall'endocrinologo perché c'è la tiroide, poi dal gastroenterologo perché c'è il riflusso, poi fate la mammografia, poi fate la MOC, poi non si capisce chi è che vede tutti questi esami e mette insieme tutti i pezzi. E vi dice a che punto siete voi. Qual è il vostro profilo di rischio? Soprattutto cardiovascolare, visto che le malattie cardiovascolari hanno un impatto così drammatico sulla vostra salute. Nessuno. Non si capisce. Passano 6 o 7 mesi in Italia per fare tutti questi giri e tutto resta come prima, motivo per cui i dati di outcome, cioè i risultati, non cambiano. Quindi serve comunicazione tra di noi, serve cambiare la comunicazione medico-paziente, ma le pazienti devono anche, come dire, recepire poi questi messaggi. E soprattutto serve che anche i media cambino il loro approccio, perché a breve vi dimostrerò i risultati di questo sondaggio, i dati preliminari di questo sondaggio e il gruppo ARST si è sentito appunto sul vivo a proposito di comunicazione. Esattamente, esattamente. Infatti stiamo volgendo al fine della masterclass e chiedo alla dottoressa proprio di commentare e svelare i dati del sondaggio sulle malattie vascolari. Arriva la chart. Eccola qua. Ok, questa è un'estrazione di dati da 2200 donne che a febbraio avevano risposto a questo sondaggio. Allora, di questo campione è premesso che il 25% delle donne sono in sovrappeso e questo già è un dato devastante. Per quanto riguarda lo stile di vita, come vedete, il 60% circa pratica meno di 150 minuti di attività fisica a settimana che sono quelli raccomandati dalla società americana, di cui una percentuale pari al 20% non fa assolutamente attività fisica. Il 60% circa misura la pressione arteriosa una volta all'anno. Una minoranza non l'ha mai misurata. soltanto il 20% sa che le malattie cardiovascolari sono più frequenti nelle donne rispetto agli uomini e un 40% circa non ha mai eseguito una valutazione cardiovascolare. Per quanto riguarda invece l'informazione, soltanto il 35% sa che le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte in Italia. Il 42% ha risposto che il principale killer, il principale della salute delle donne, è il tumore, con particolare riferimento al tumore del seno. E soprattutto alla domanda di che cosa parlano i mezzi di informazione quando parlano di salute cardiovascolare delle donne, quando parlano di salute, e soprattutto le campagne, i media, parlano di salute cardiovascolare, soltanto l'1,6%, cioè praticamente zero, hanno risposto che parlano di salute cardiovascolare. Perché i media, e sfido chiunque a smentirmi, parlano di prevenzione di tumore del seno e molto anche di violenza. Quindi la comunicazione è tutta da rifare. Tutta da rifare. A questo punto possiamo invitare tutte a partecipare al sondaggio. Quindi questo è il QR code che ci permette di entrare. Adesso, eccolo. Partecipate tutti, è importantissimo. Più dati abbiamo. Inquadrate il QR code che può essere diffuso anche via WhatsApp. La survey verrà chiusa a breve, perché comunque il campione è altamente rappresentativo, quindi avete una settimana di tempo per diffondere la partecipazione al sondaggio. Grazie. Grazie a tutti di aver partecipato. Buon proseguimento con il nostro L-Active. Grazie. 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 Grazie.